Cavese pronta finalmente a dire la sua in quel di Francavilla sul Sinni. Il match contro i Lucani offrirà infatti l'occasione al campo e ai calciatori bianco-blu di dare una risposta concreta alla bufera che nelle ultime settimane si è abbattuta sul club metelliano. Una gara decisiva che mette in palio punti pesantissimi in chiave play-off dopo la vittoria contro da Scafatese. La formazione di mister Agovino è ancora in tempo per agganciare la zona calda della classifica. Lo sa bene il tecnico degli Aquilotti che in settimana ha tentato di isolare i suoi dal terreno minato del contesto extracalcistico. Nonostante le criticità per l'indisponibilità delle strutture, un allenamento saltato e un altro a dimensioni ridotte, non gli abbiano certo reso le cose agevoli. Alla Fittipaldi di Francavilla scenderà in campo una formazione orfana, come ormai consuetudine, della propria tifoseria e soprattutto rimaneggiata a causa delle indisponibilità di Marzullo per squalifica e di Manso per infortunio. In settimana Agovino ha provato in difesa ancora Campanella, mentre in avanti la scelta è tra Platone oppure Lucchese, che contro la Scafatese aveva giocato in posizione di play arretrato. Intanto si addensano le nubi societarie, se il silenzio dei vertici dirigenziali era apparso a tutti come un pessimo auspicio. Ben più sconcertante è stato il ritorno in vecchio stile dei patron Monorchio e Vertolomo, che ancora una volta si sono affidati ai social network per indire un'assemblea generale dei soci, che alla fine, visto il breve preavviso, è ovviamente stata rimandata. Una comunicazione questa che non ha fatto altro che buttare benzina sul fuoco e intensificare l'ostilità di una piazza che invoca a gran voce le dimissioni dei due imprenditori. Si vocifera però che la tifoseria sia riuscita nelle scorse ore ad incontrare i vertici e che possano esserci sviluppi a breve con la consegna dei pacchetti societari nelle mani dell'amministrazione comunale. Siamo al giro di Boa, ha dichiarato Monorchio. Siamo al capolinea, ha commentato qualcun altro. La domanda sorge allora spontanea. Chi sarà a scendere?